Si è svolta questa mattina, 22 febbraio, la conferenza stampa di presentazione dell'anteprima del bilancio 2018 della BCC di Acquara, nutrita la partecipazione di giornalisti che nella sede amministrativa della banca Sita a Capaccio sulla strada statale 18 hanno avuto modo di interloquire con il direttore generale della BCC, Antonio Marino. L'occasione è stata utile anche per ribadire il valore del Sud nel settore bancario, professionale, lavorativo a dispetto delle polemiche che ancora oggi parlano di secessione e di vario. La previsione è quella di crescere ancora compatibilmente con questa situazione nazionale che sicuramente non è brillante, però ci daremo da fare anche perché nella nostra area qua diciamo che una crescita c'è, non è che ci possiamo poi eccessivamente lamentare perché in fondo abbiamo un turismo eccellente, abbiamo un'agricoltura eccellente, anche una delle zone più eccellenti dal punto di vista della quarta gamma proprio a livello europeo, quindi insomma siamo messi bene, sarà capacità nostra di intercettare questa clientela. Si apriranno nuove sedi qui sul territorio? Sì, questo abbiamo visto, apriremo sicuramente a Pellezzano ad aprile e poi probabilmente ad Acropoli dopo che abbiamo aperto là. Direttore, si è parlato di vicinanza al territorio della banca, non solo però per quanto riguarda proprio la vera e propria attività di una banca, ma anche la vicinanza alle associazioni culturali, alle manifestazioni, la vicinanza ai giovani, alle tante iniziative che organizzano i giovani. Ma questa è una banca locale, da una banca locale viene chiesto proprio questo, se no che banca locale è, quindi facciamo di tutto, dal carnevale di Albanella che sarebbe l'ultima richiesta che è arrivata stamattina, alle presentazioni di libri, a incontri con i soci, insomma noi siamo una banca che lavora molto al di fuori della banca, quindi questa è importante, però questo si chiede ad una banca locale e noi cerchiamo di farlo, tra l'altro devo dire che ce lo riconoscono tutti sotto questo aspetto, insomma siamo preceduti da una buona considerazione, da una buona reputazione, tra l'altro devo dire i nostri soci ci sono contenti, ci seguono con attenzione, noi li informiamo costantemente tramite il nostro giornalino aziendale e quindi diciamo che sotto questo aspetto siamo molto propositivi. Le nuove represture del filiale che chiaramente si è discusso all'interno di questa conferenza, quali incrementi potrebbero e cosa avete preventivato? Noi abbiamo aperto a fine 2017 lo sportello di San Gregorio e quello di Ponte Cagnano, a distanza di un anno, insomma complessivamente tra tutte e due siamo quasi a 25 milioni di impieghi tra tutte e due, quindi diciamo che se anche questi altri due ci portassero in un anno 25 milioni saremmo più che soddisfatti, insomma, poi tra l'altro Agropoli ha 23 mila 23 mila abitanti, per Lezzano pure quasi 15 mila, la vicinanza con Salerno, insomma ci sono i presupposti, poi è chiaro che sarà capacità o incapacità nostra per intercettare questi numeri.